ciao a tutti oggi video veloce sono andata oggi alla discount leader e ho preso i rossetti ho preso un lip gloss e un fondotinta questi prodotti sono in edizione limitata perciò affrettatevi perché tanti colori già non ci sono più io sono già stata fortunata ma ho visto che tanti prodotti mancavano tanti colori non c'erano più allora io ho preso questi sono i prodotti ho preso 4 rossetti un lip gloss e un fondotinta allora vi faccio vedere tutti dunque adesso vi faccio vedere anche i colori adesso devo togliergli ancora la carta allora io ancora non so come sia e li proviamo insieme prima il colore numero 10 berry cocktail questo è il colore e un rosso scuro io andrò a mettermelo non so voi cosa vedete cercherò di fare una cosa veloce non fateci caso se lo metto un po male perciò non metto la matita ma vi faccio vedere semplicemente così questo è il rossetto colore questo sembra carino intanto vi faccio un swatch anche questo è il colore è un bellissimo colore sembrano molto cremosi e si mettono anche bene si stendono bene adesso sono andata a mettere il rossetto e vi faccio vedere l'altro questo è il numero 13 pink explosion adesso vado a mettere il colore bellissimo molto bello rosa carinissima rosa fucsia questo è il colore qui questo è il colore sembra carino anche questo adesso con questa luce non so cosa si veda non volevo sembrassero tutti uguali però sembra carino faccio uno swatch molto pigmentato questo è il 13 bellissimo poi c'è questo rosso il numero 5 spacy red penso che si venga così adesso vado a metterlo questo è un bel rosso sembra carino anche questo un bel rosso acceso non fateci caso se lo metto male ma è giusto appunto per per farvi vedere il colore carino questo è il colore abbiamo detto 5 questo qui e anche questo e se vi faccio vedere l'altro vado a togliere questo 9 neon coral questo è l'ultimo rossetto adesso vado a metterlo un bellissimo colore anche questo devo dire che sono molto molto coprenti carino anche questo molto bellissimo questo anche questo è il numero 9 questo è il numero 9 poi adesso vado a togliere questo e metto il lip gloss allora il lip gloss che è questo questo colore bellissimo un rosa saprei dire un rosato adesso vi faccio vedere la swatch ve lo metto di qua bello molto bello anche questo ve lo metto qua sotto che carino molto pigmentato anche questo adesso lo vado a mettere qui bello anche questo l'ultimo prodotto è questo fondotinta sempre della Siena questo è il colore più chiaro e avorio e da 30 ml la scadenza 12 mesi e adesso ve lo faccio vedere qua però questa mano è qua questa è la consistenza adesso qua è un po' chiaro così però vediamo se si assorbe subito o no vediamo adoro brutto bruttissimo ecco questo colore sembra che si sia asciugato in fretta un po' non so non ha la sensazione che rimango opaco comunque sembra carino diciamo che non so dirvi altro perché appunto li ho appena presi perciò magari vi farò sapere poi come mi sono trovata il prezzo di tutti questi prodotti rossetti gloss e fondotinta che ho preso costano tutti 1,99 euro ci sono anche gli smalti e ci sono pochi colori perciò se vi piacciono e vi interessano affrettatevi perché penso che poi non trovate niente ma non ruba insomma ci vediamo la prossima ciao